Ciao 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 Come stai vicina? Che stavi facendo? Che stavo Dov'è la mamma? A fare i compiti E chi si occupa di te? Rachele Posso parlare con Rachele? Adesso nel bar Ci viene la mia festa domani? Mi dispiace tesoro ma non posso Perché no? Beh lo sai papà è in viaggio Mi dispiace molto ma non posso proprio Però ti manderò un bellissimo regalo Grazie C'è qualcosa che preferisci? Sì Che cosa? Un telefono Abbiamo già un sacco di telefoni non vorresti un'altra cosa per il tuo compleanno? Cosa di speciale? Sì Cosa? Una scimietta Una scimietta Beh vedremo se sarà possibile Puoi dire alla mamma una cosa da parte mia ti ricorderai? Sì Di alla mamma che ho telefonato ok? E che cercherò di telefonare ancora domani Ma te lo ricorderai? Sì Ok tesoro e buon compleanno per domani Va bene E divertiti tanto con i tuoi amichetti eh? Va bene E stai attenta a fare la brava bambina vero? Va bene Ciao 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 Buon compleanno